Buongiorno, siamo qui con Troise, miglior in campo nella partita tra Galacticos e Martorelli Wind, sorprendentemente vinta 8-0 dai Galacticos. Troise, migliore in campo, autore di un poker oggi, che cosa ha da dire Troise? Niente, per me il migliore in campo è il nostro portiere. Ah, subito, lo introduce. Il capitano, il capitano. Lo dica, lo dica. Il capitano, vieni a casa. Vieni capitano. E senta, perché secondo lei è il portiere il migliore in campo? Perché non abbiamo preso gollo. All'essuale, eh? All'essuale, ovvio. No, va bene, ma Troise, ti devo chiedere un'ultima cosa. Mi dedica la mazzicola, va bene. Sì, bravo, dedicami questi gol, la vittoria, la partita e tutto. Vabbè, vabbè, a dia 20 che non è venuto, sto lavorando. No, ho capito, ho capito, ho capito, non c'è la capitano. Va bene, salutiamo i Galacticos, saluto, ciao a tutti.